Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Call of Duty Black Ops 2 siamo nell'episodio 9, siamo arrivati nel 9 episodio in questo live commentary è un commentary che già inizia bene con 2 kill siamo come sempre sul pc ormai il pc non l'abbandono ma non l'abbandono più io no merda, eh vabbè purtroppo nel momento in cui si scopre il gaming sul pc non si riesce più a tornare indietro sulle console magari poi gli piace il quattro Xbox One, si tanta roba è vero però vi rimango fedele al mio computer che mi sono fatto ho preferito spendere i soldi nel computer che tra l'altro non neanche l'ha finito come sapete ho una cpu della madonna ho una cpu della dell'intel ho un 4670k naturalmente non overclocko io anche perchè come sapete non ho la muovo per overclockare ho una B85M trattino ok B85M trattino e mi sembra madonna ragazzi che partita ma ecco finito è un 1 quindi 3 un'altra kills ne vaffanculo purtroppo a fermarlo niente finita con la partita ragazzi mi ha fatto 16-1 madonna che punteggio ragazzi 16-1 futi f madonna best punteggio eu mai fatto io un punteggio così bello veramente mai fatto se mi si fanno gli screen forse f10 f12 ho fatto lo screen con f12 siamo a livello 24 ministro elstrom sbloccato andiamo avanti facciamo un'altra partita facciamo un casual perchè slums non mi piace purtroppo non farò un punteggio così bello ma vabbè taglio in fin dei conti sperando che riesca una buona mappa intanto andiamo un po' su crea una classe come dicevo prima ho un buon pc da gaming adesso l'unica cosa che forse devo cambiare sono solo 3 minuti che sto registrando ho fatto una partita di 3 minuti ho fatto 16 decisioni ragazzi cioè incredibile dicevo l'unica cosa che devo cambiare del mio computer è purtroppo la scheda video che è un po' un colo di bottiglia ecco manca anche un ssd forse potrebbe dare un po' lo sbrio ecco ma devo dire che scusate ma devo dire che il mio hard disk dalla western digital si sta comportando in modo dignitoso ecco pure con windows 8 devo dire che si sta comportando in modo dignitoso windows 8 che l'ho voluto provare per vedere veramente le funzionalità se c'è qualcosa di nuovo in questi giochi tra i meriti devo dire che forse è migliore rispetto a windows 7 ma sono dettagli come sapete quindi non so più di type 25 perché il type porta fortuna a quanto pare con la skin union jack no non si chiama union jack union flag scusate allora si dice union jack quando si intende la bandiera ma quando intendiamo invece una cosa che riguarda la bandiera è la union flag la bandiera di per sé flag vuol dire bandiera credo non vuol dire qualche cazzata ok tanto una kill già fatta buono quindi andiamo da questa parte dove intorno dovrebbero spawnare i nemici sperando che invece ne ha spawnato il mio amico quindi viene cambiato il punto di respawn tanto non sento spari per ora ah mica quello è il mio amico ricarichiamo l'arma e prestiamoci subito ad andare di qua andandoci il mio amico attenzione raga ho visto uno sparo che cazzo è che sparo oh no ragazzi io ne vado da sto porca puttana bastardo uno a uno sperando di non rovinare il 16 di ratio minchia ragazzi il 16 di ratio credo che che manca se ci ritrovo piangendo riesco a farlo veramente andiamo da sta parte non mi dice niente ma che cazzo ok pike ciao pike vediamo un po' se troviamo qualcuno qua dentro ok devo aspettare il nemico prendermi cinto però ho detto bah non me la rischio si zio cioè te stai tutto in paio così mi direi contento te te tutto ok c'è il telefono a fianco che mi dà fastidio allora non sento nemici qua vicino non capisco dove cazzo sono ok quindi no merda ho sbagliato ma di nuovo ma come cazzo si chiama uno alla granata ma come tattiche te ma l'hai già tirato l'uovo non siamo più al comando no ragazzi non lo so no vabbè 5-2 non è un best punteggio come quello di prima però accontentiamoci ragazzi abbiamo preso il comando bravi bravi eh vabbè 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 tanto come minimo sarà la nostra la dentro bravo tanto come minimo no strano visto che non esplona qui ah si è un coglione ti spara ti spara a fianco ottimo rimaniamo sempre qua nella zona del respawn nemico che credo che non sia neanche più nemico infatti è che mi sento tipo ah no però qualcuno ancora c'è oh ragazzo c'è uno qua dietro bambi headshot grazie no no ma grazie mille fogs fox 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 figlio di puttana 9-3 va bene ma ragazzi non è malissimo qua punteggio 9-3 ci puo stare ci puo stare tirano le quattro per ora... ancora basta si spawn del cazzo minchia è particoloso ricaricare in questi modi però... quindi arriviamo agli estremi estremi e rimedi almeno questo è quello che dice il motto no noia lì che kill da dove cazzo viene giù di qua io l'ho sentito vicino ma qua di niente infatti mi hanno sbagliato le mie orecchie ma come ha fatto mamma mia mi direi che è stato tutto deficiente però basta sto qua facendo il morde della madonna succo così non puoi manco spawnare qua lo sapevo che eri ancora ridotto surprise surprise intanto ho 15-6 not bad ecco però questo è bad allora mi ha ucciso qua ma ancora basta sorry sorry oddio ma solo io non li vedo sti qua 15-9 tanto il putteggio che si sta inesorabilmente rovinando si poi ho cercato la surprise che aveva detto questo qua prima sorpresa continuate così mi bisogna anche rotto il cast di stamattina ottimo madafuck meh pronto in cue e finita 18-10 ragazzi 1-80 non so la 16 di rate come prima ma accontentiamoci tanto siamo a 13 minuti di video ora 2-3-4 andiamo l'ultima kills eh lì zio è troppo forte vendetta che bel nome eh vabbè 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 ragazzi vabbè tanto a livello 24 siamo dobbiamo arrivarci presto in teoria il 55 in teoria niente ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuta come sempre vi evito lasciare un bel mi piace un commento l'iscrizione passate anche nel secondo canale che adesso sto portando a minecraft che probabilmente domani porterò un episodio random ecco niente altro da dire ragazzi passate iscrivetevi iscrivetevi anche su facebook cioè lasciate like anche su facebook per rimanere sempre aggiornati e niente ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se fosse così lasciate un bel mi piace un commento e soprattutto iscrivetevi bella rag